Persino la fila diventa digitale. Tra le immagini simbolo dell'emergenza legata al covid-19 ci saranno sicuramente le lunghe file fuori dai supermercati, un'esperienza spiacevole per il cliente ma necessaria per evitare assembramenti. Lo ricorderete nei primi giorni dell'emergenza c'erano delle lunghe code anche fuori dagli sportelli bancari, mentre sicuramente nelle prossime settimane, nella cosiddetta fase 2, accederemo alle filiali bancarie e alle agenzie assicurative proprio su prenotazione. E allora perché non fare una coda in formato digitale, prenotando il proprio posto, il proprio turno, direttamente dallo schermo dello smartphone? La catena di supermercati S lunga sta testando in sempre più punti vendita un'app che fa proprio questo, che si chiama YouFirst. Questa app YouFirst è in uso già da diverso tempo a onore del vero presso alcune banche italiane e allora dopo la sigla parliamo su Skype proprio di code digitali insieme a Matteo Lentini, Managing Director di YouFirst. Matteo Lentini, Managing Director di YouFirst. Matteo, chi segue il mondo delle start-up e quello del banking vi conosce già, ma adesso dopo l'annuncio della collaborazione con S lunga avete avuto una visibilità ancora maggiore sul grande pubblico. Puoi spiegare per chi non vi conoscesse in estrema sintesi che cosa fa YouFirst? Allora Roberto, YouFirst permette alle persone di far la fila da remoto e quindi di gestire proprio tempo in modo intelligente attraverso degli strumenti digitali. Noi mettiamo a disposizione delle persone un'app, loro si possono geolocalizzare, vedere quali strutture hanno aderito alla nostra piattaforma, scegliere la struttura dove vogliono recarsi e vedere quanta gente c'è in fila. In questo modo loro prendono un biglietto virtuale, loro posto in fila lo prenotano dall'app e poi si recano alla struttura appunto d'accesso solo quando è loro tutto. Partiamo da quella che è un po' l'ultima notizia, quella della collaborazione con S lunga. Durante la quarantena fuori dai supermercati sono viste code lunghissime. Il mio record personale è solo di 50 minuti di attesa per fare la spesa ma si narra di code anche di 6-7 ore. Siamo chiaramente in una situazione eccezionale e proprio per questo vorrei chiederti che cosa state imparando da questa esperienza con la GDO. Noi avevamo già una tecnologia che era stata sviluppata per gestire le file. Chiaramente abbiamo fatto delle modifiche apportando dei cambiamenti al nostro sistema in modo tale da poter venire incontro a delle file così numerose. Sicuramente collaborare con i supermercati, con S lunga in primis, anche con altri brand di supermercati ci ha fatto capire come gestire questi flussi veramente importanti perché parliamo di migliaia e migliaia di persone che ogni giorno si recano un punto vendita e quindi ci sono delle dinamiche nuove che bisognava studiare e bisognava affrontare. Quindi grazie a questo ora possiamo senza problemi scalare la nostra soluzione su numeri veramente importanti. Eravate già presenti anche nel settore bancario grazie ad accordi con alcune banche per gestire proprio la prenotazione e l'accesso alle filiali. Non siete presenti solo nel settore bancario chiaramente ma noi come testata ci occupiamo di quello. Con l'emergenza sanitaria in filiale ci si va su prenotazione e probabilmente ci andremo su prenotazione anche nel prossimo futuro. Come vi immaginate evolverà la gestione dell'accesso agli sportelli e magari anche la prenotazione della consulenza con un referente specifico? La soluzione di utilizzare prenotazioni è al momento, e lo condividiamo appieno, la soluzione migliore perché in questo modo eviti gli assembramenti, permette alle persone di recarsi in struttura, quindi evitando anche le file perché teoricamente il proprio turno è garantito e si possono chiaramente essere dei ritardi perché magari la persona prima sta spendendo più tempo durante quella consulenza, ma in generale è un metodo che funziona. Noi abbiamo sperimentato con diverse realtà una soluzione proprietaria che è un'agenda digitale, anche questa, che permette di integrare all'interno dei propri canali di gestione prenotazioni un sistema molto intelligente che ti fa prendere la prenotazione dalla nostra app, quindi le persone che sono andate al supermercato, sono andate in farmacia, nella stessa app hanno praticamente anche la banca, prenotano il proprio slot per un appuntamento e dopo ricevono delle notifiche, notifiche via sms, via mail e anche delle chiamate automatiche che gli ricordano dell'appuntamento. Questo sistema è molto utile, penso alcune banche utilizzano magari dei sistemi proprietari, altre dei sistemi terzi, questo sistema terzo è molto valido per per gestire gli appuntamenti. Quando invece parliamo di gestione di accessi in alcune banche dove magari le persone fanno molte operazioni di cassa, allora ritorna a Vaido il sistema che oggi abbiamo studiato per i supermercati, questo sistema di fila lineare che funziona con un concierge, quindi la banca potrebbe dare un servizio migliore ai propri clienti con un addetto, quindi una persona dello staff o anche un esterno che lavora in quel momento da concierge e quindi l'addetto fa entrare le persone convocandole attraverso la propria app che noi forniamo e quindi da lì lui vede quante persone ci sono in fila e può convocare in modo tale da farle entrare in filiale e dirigerle in questo modo in maniera rapida ed efficace presso lo sportello o il consulente per essere quali loro ci sono prenotati. Il tema della trasformazione della filiale è innanzitutto un tema che ad Azienda Banca sta a cuore da molti anni e in più è un tema di forte attualità per le banche, abbiamo visto modelli innovativi, prototipi, vari tipi di innovazione. Adesso con l'arrivo del Covid-19, con questa variabile sanitaria completamente imprevista, cambia tutto. Secondo te il mondo della filiale, della trasformazione della filiale, come dovrà prendere in considerazione questo fattore? Molte filiali hanno già investito e stanno continuando a studiare delle tecnologie per la branch transformation. Alcune di queste tecnologie esistenti però si basano su della strumentazione fisica, quindi su dei totem, anche dei totem evoluti che però sono touch. Quindi quando si ha della strumentazione di questo tipo, in questa situazione in cui i protocolli e le regole evitano e chiedono che si eviti il contatto con la strumentazione, perché potrebbe diventare un veicolo di infezione, allora è importante pensare agli strumenti puramente digitali. Quindi una soluzione come quella di YouFest, che è puramente digitale, totalmente gestita senza il touch, permettimi la parola, di totem o di altra strumentazione, potrebbe essere qualcosa di ideale. Secondo me a tendere ci sarà una spinta, un'onda di digitalizzazione maggiore anche nelle filiali e questo ha due benefici. Uno sicuramente di costi, perché il digitale, in una situazione puramente digitale, costa molto di meno da una banca rispetto ad un totem che è fatto di materiali, di ferro, di plastica, che poi comporta anche degli investimenti nella filiale stessa, perché devi montarlo, devi probabilmente cambiare qualcosa nella disposizione della filiale. Invece quando hai una soluzione digitale, questo non c'è. Il secondo beneficio è che rispetto ad un bigliettino di carta, un turno prenotato su un'app, ha tutta una serie di informazioni che possono servire per fare customer retention, possono servire per studiare i dati del cliente e quindi migliorare il servizio ulteriormente. Matteo, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a te Alberto, un saluto a tutti.